Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. FISCOZEN Questo video è stato creato grazie al suo supporto. È un servizio online che vi semplificherà la vita se già lavorate con la partita IVA o se volete avviare un nuovo progetto e aprirla. Voglio consigliarvi personalmente FISCOZEN perché vi offre un commercialista dedicato e una dashboard per gestire la vostra partita IVA online ovunque voi siate. Tutti i miei collaboratori lo usano e si trovano davvero molto bene. L'applicazione di FISCOZEN è facilissima da utilizzare. Potete creare ed emettere fatture elettroniche con pochi clic e i modelli sono precompilati, così come la dichiarazione dei redditi. Ma non è finita qui. Infatti potrete calcolare le tasse e i contributi in tempo reale su ogni fattura che incassate in automatico. Questo vi permetterà di sapere esattamente l'importo che dovrete versare l'anno successivo. Riceverete inoltre notifiche riguardanti i pagamenti da effettuare per una gestione più agevole delle vostre finanze. Con questi documenti già precompilati potrete evitare qualsiasi preoccupazione riguardo a possibili errori durante la compilazione. Avrete a disposizione un commercialista dedicato e specializzato nella vostra professione e potrete contattarlo via chat, email e telefono. Vi risponderà in poco tempo e sarà a vostra disposizione per chiarirvi qualsiasi dubbio e perplessità. Le consulenze inoltre sono gratuite e illimitate. Lasciatevi alle spalle le preoccupazioni con Fiscozen. Se volete avere più informazioni potete fissare una consulenza fiscale gratuita e senza impegno cliccando sul link in descrizione e pinnato nel primo commento. Grazie al mio codice sconto OCCIOCRIPY50A avrete 50 euro di sconto sul primo anno di abbonamento. In un'era in cui la tecnologia avanza rapidamente il web offre un accesso senza precedenti all'informazione e alla connessione ma nasconde anche orribili minacce. David Eisenhower nasce nel 1997 e cresce nel comune di Yakima nello stato di Washington con i suoi genitori e la sorella minore per poi trasferirsi a Columbia una cittadina del Maryland. David vive un'infanzia normale, è un ottimo studente, ben voluto dai suoi insegnanti e dai suoi coetanei. Durante il periodo della scuola media David diventa un maratoneta di grande successo, vince molti premi e si aggiudica il titolo di corridore dell'anno più volte. Sui giornali locali vengono pubblicati diversi articoli che parlano di David e del suo talento nella corsa. Però secondo i suoi compagni di scuola quando David inizia a ottenere dei riconoscimenti per le sue abilità atletiche diventa il quanto arrogante e sfrontato. Cerca di porsi sempre al centro dell'attenzione, inoltre tiene tantissimo alla sua immagine e a quello che la gente pensa di lui. David vuole incarnare il perfetto ragazzo americano e desidera piacere agli altri. Tuttavia qualcuno lo definisce socialmente imbarazzante e molti studenti affermano che a loro David non piace. Sostengono che sia complicato parlare con lui perché David non è molto incline a fare conversazione e fatica a mantenere il contatto visivo con i suoi interlocutori. David diventa addirittura vittima di bullismo. I suoi coetanei lo prendono in giro perché lo ritengono poco perspicace. Lo accusano di essere sempre l'ultimo a comprendere una battuta o uno scherzo. Nonostante queste difficoltà David riesce ad affrontare sia la scuola media che il liceo e appena dopo il diploma si iscrive alla Virginia Tech University dove inizia a studiare ingegneria. Mentre frequenta l'università stringe amicizia con un'altra matricola, una coetanea di nome Natalie Keepers. Natalie ha 19 anni ed è reduce da un'esperienza scolastica molto simile a quella di David. È una studentessa dotata e talentuosa. Al tempo della scuola media faceva parte della squadra di matematica che partecipava alle gare. Quando si è diplomata è risultata come una delle studentesse migliori del suo liceo. Natalie ha una famiglia molto religiosa e frequenta la chiesa tutte le domeniche. Ogni estate per una settimana fa la capofila della scuola biblica per la sua parrocchia. Insegna a dei gruppi di piccoli studenti della scuola materna e degli elementari alcune attività manuali, ad esempio legate a degli esperimenti scientifici. Natalie fa anche parte di un team di sei persone incaricate di occuparsi dell'ampliamento di una casa per una famiglia in difficoltà economiche. Durante il periodo universitario alla Virginia Tech University, Natalie si unisce alla squadra di calcio, dirige addirittura dei musical accademici e fa parte del Model United Nation. Sono conferenze per studenti in cui vengono simulate le assemblee dell'ONU e di altri organismi internazionali. Ogni partecipante assume il ruolo di delegato di un paese membro delle Nazioni Unite o di un'organizzazione non governativa in base alle rispettive assegnazioni. Ancora, secondo la sua pagina LinkedIn, Natalie intraprende uno stage alla NASA. Si sta infatti specializzando in ingegneria aerospaziale e oceanica, ma è intenzionata a laurearsi anche in ingegneria navale. Come presumibile, l'ambito di studi scelto da Natalie si lega alla sua passione per le strutture degli aerei, delle barche e dei sottomarini. Insomma, Natalie è una giovane ragazza brillante e forse anche per questo avverte molta pressione su di sé, finendo con l'accusare un malessere in termini di salute mentale. Come accennato, anche lei ha vissuto un'esperienza scolastica simile a quella di David. Anche lei è stata definita socialmente imbarazzante. Anche lei è stata un po' emarginata dai compagni. Anche lei ha subito bullismo. Di conseguenza, Natalie soffre di ansia e depressione e ha avuto degli episodi autolistici. Infatti è stata costretta ad assumere dei farmaci. Inoltre, altra cosa molto importante, mentre frequentava il liceo, stava insieme a un ragazzo piuttosto controllante e addirittura violento. Lui ha smantellato completamente quella poca autostima che Natalie aveva, l'ha fatta sentire sbagliata e le ha procurato ulteriori disagi. Torniamo al presente ora. Come detto, sia Natalie che David frequentano la Virginia Tech University. E per entrambi questo è un nuovo inizio. I due diventano amici intimi. A dire il vero, Natalie e David non si sono incontrati al college per la prima volta. Infatti, provengono dalla stessa città, Columbia, nel Maryland, pur avendo frequentato scuole diverse. Riscoprendosi piuttosto simili, avevano già vissuto insieme un'avventura. In ogni caso, nel periodo dell'università, Natalie lascia il suo fidanzato dal temperamento aggressivo, ma è ancora emotivamente vulnerabile. E la sua ricerca di conforto la porta direttamente tra le braccia di David. Così, i due riprendono la loro storia. Natalie però, ben presto, sviluppa un'autentica ossessione per David e sembra disposta a fare qualsiasi cosa per lui. Queste dinamiche si rafforzano in davvero poco tempo. Natalie segue David ovunque mentre frequentano il primo anno di corsi. Dunque, studiano certo, ma partecipano anche a molte feste dove si divertono e bevono. Sempre durante questo primo anno di università, David scarica un'applicazione di messaggistica istantanea di nome Kik. Kik è un'app molto simile a Whatsapp o Telegram ed è molto popolare tra i ragazzi giovani, ma nasconde diverse insidie. Ad esempio, Kik consente di rimanere completamente anonimi. Tutti i messaggi sono crittografati e non è necessario fornire alcun dettaglio personale quando ci si iscrive con il nome, la data di nascita o il numero del proprio telefono, a differenza di Whatsapp. Dunque, dopo averla installata, ci si limita a scegliere un nome utente e si può iniziare a chattare immediatamente. Ecco perché il territorio dell'applicazione è popolato da numerosi utenti con identità fittizie che sono dei veri e propri predatori. Addirittura Kik è nota per essere un'app di messaggistica utilizzata da quelle persone che apprezzano i bambini nel modo sbagliato. Credo che ci siamo capiti. Infatti, ad essa è collegato un enorme problema di sfruttamento minorile. Come ha riportato la BBC, l'applicazione di Kik è stata implicata in più di mille casi di abuso su minori in un arco temporale di 5 anni. Ogni volta le forze dell'ordine cercano di rintracciare questi utenti che si approcciano in maniera inopportuna con i bambini chiedendo ai proprietari dell'app delle informazioni sulle loro identità. Ma si scontrano con un muro di gomma perché loro si rifiutano di fornire qualsiasi tipo di dato. Anche se sulla piattaforma ancora bazzircano degli utenti che sono p***o condannati gli sviluppatori si rifiutano di eliminare i loro profili. Questa applicazione contiene anche una sezione per gli appuntamenti un po' come Tinder. Inoltre c'è una funzione che permette di trasmettere delle live streaming a chiunque nel mondo un po' come faceva Omegle. Se queste live streaming intercettano tanti utenti vengono spinte dall'applicazione che le rende maggiormente visibili a ulteriori persone. Ma spesso queste live streaming hanno contenuti molto espliciti che possono rivelarsi pericolosi soprattutto per gli adolescenti vulnerabili. Quando si verifica questo caso nel 2015 l'applicazione registra quasi 300 milioni di utenti il 40% è composto da adolescenti che vivono negli Stati Uniti. Adesso vi riporto alcune terribili notizie legate a questa applicazione. Nel 2016 un uomo viene arrestato e condannato a una pena di 25 anni dopo aver condiviso su Kik degli autoscatti inadeguati con un bambino di 2 anni. In un caso due persone per nulla raccomandabili vengono condannate perché avevano usato l'applicazione per cercare di adottare un bambino di cui approfittarsi. In un'altra indagine ancora si scopre che ci sono quasi 200 gruppi su Kik dedicati agli adulti su minori. Abbondano i predatori che condividono liberamente immagini indecenti di bambini e possono contare sull'anonimato. Tirando le somme quest'app è composta prevalentemente da adolescenti e predatori e in alcuni casi questi ultimi convincono delle ragazzine e dei ragazzini a condividere delle immagini personali esplicite sulla piattaforma. Si è innescato un circolo vizioso le problematiche connesse a questa azienda sono note tuttavia non si prendono provvedimenti a riguardo. Perché? Beh, Kik è una prospera fonte di ricchezza infatti nel 2016 è stata valutata a un miliardo di dollari. Ovviamente esiste ancora oggi non so però quanto sia popolare. Tornando ai protagonisti del nostro caso come detto David ha iniziato a usare l'applicazione inviando messaggi anonimi a diverse persone provenienti da tutto il mondo. Arriviamo all'autunno del 2015 il ragazzo sta per concludere il suo primo semestre al college e sta inviando dei messaggi sempre attraverso Kik a un utente sconosciuta il cui nickname è Nicole Lovell 1514. Non si sa esattamente cosa si dicano David e questa Nicole ma è noto che le loro conversazioni sono di natura intima. David pensa che la ragazza con cui sta parlando abbia tra i 16 e i 17 anni ma si sbaglia perché dietro l'account di Nicole Lovell 1514 c'è una ragazzina di 13 anni. David in futuro dirà che ignorava la sua verità tuttavia alcuni registri delle chat dimostrano che lui ha un certo punto la scoperta. Non sappiamo esattamente quando ma c'è una certezza. anche dopo che David è venuto a sapere che Nicole aveva 13 anni ha continuato a intrattenere con lei delle conversazioni molto esplicite a sfondo intimo. In ogni caso prima di addentrarci in ulteriori dettagli della storia scopriamo chi è Nicole e parliamo della sua vita. Nicole Lovell nasce il 3 maggio 2002 i suoi genitori si chiamano Tammy Wicks e Dave Lovell. Questa ragazzina è reduce da un'infanzia davvero difficile i suoi genitori si separano già prima della sua nascita. Suo padre è un uomo problematico che ha diversi guai con la legge a causa delle sostanze infatti vive un periodo di detenzione dietro le sbarre. Non è un papà presente per la sua bambina non a caso è Tammy che la cresce da sola. Poco tempo dopo la nascita di Nicole la mamma però si rende conto che l'addome della piccola è gonfio quindi la porta dai medici e fa una brutta scoperta. Sua figlia ha un tumore al fegato. Nicole all'età di soli dieci mesi subisce un'operazione di trapianto al fegato. L'intervento per fortuna ha successo ma lei dovrà assumere dei farmaci per il resto della sua vita. Nicole prende per due volte al giorno delle medicine antirigetto che essenzialmente la tengono in vita ma purtroppo le sventure per lei non finiscono qui. All'età di quattro anni le viene diagnosticato un cancro nello specifico il linfoma di Hodgkin mentre è in cura in ospedale contrae l'MRSA ovvero lo stafilococco resistente alla meticillina dunque un'infezione batterica altamente resistente ai farmaci antibiotici in seguito a ciò Nicole sviluppa la sindrome respiratoria acuta una malattia molto grave che può portare alla morte per insufficienza respiratoria polmonare a causa di questa ulteriore malattia la bambina entra in coma per sei mesi i dottori a riguardo riportano pessime notizie prevedono che il tasso di sopravvivenza per Nicole corrisponda appena all'1% come potete bene immaginare questo periodo è estremamente duro sia per Nicole che per sua madre Tammy ma la piccola è una vera combattente dopo essere uscita dal coma si è incredibilmente ripresa infine viene dimessa può finalmente tornare a casa sapere quante avversità ha già affrontato Nicole nella sua breve vita rende ancora più insopportabili gli orribili risvolti di questo caso Tammy chiama sua figlia un dono di Dio è la sua bambina miracolosa perché secondo i medici non sarebbe sopravvissuta invece dopo tanto lottare si è salvata torniamo dunque a quando Nicole ha 13 anni lei condivide un bellissimo rapporto con sua mamma sono tanto legate Nicole e Tammy sono madre e figlia sì ma sono anche migliori amiche come spesso accade in molti dei casi di cui vi parlo quindi la vita della ragazzina adesso potrebbe proseguire al meglio ma c'è un problema Nicole odia andare a scuola perché è vittima di bullismo il motivo? Nicole ha delle cicatrici importanti sia sulla gola che nella zona dello stomaco per via degli interventi chirurgici che ha sostenuto e i coetanei la maltrattano proprio per questo le sue cicatrici per quanto mi riguarda le cicatrici di Nicole sono di inestimabile valore testimoniano che è stata una bambina dalla forza ammirevole una guerriera vincente ma evidentemente nessuno ha educato i suoi compagni al rispetto e alla sensibilità infatti Nicole viene bullizzata anche per il suo peso parliamoci chiaro è ovvio che detesti andare a scuola frequentare le lezioni di ginnastica cambiarsi davanti alle altre ragazzine che osservano la sua cicatrice allo stomaco mentre a casa invece Nicole si sente al sicuro non deve affrontare il bullismo e può immergersi nel suo piccolo mondo insieme alla madre Nicole ama cantare e ballare nella sua camera da letto le piace molto la musica country anche se il suo gruppo preferito sono i Five Seconds che è una band australiana pop punk e rock Nicole sogna di partecipare un giorno ad American Idol una competizione televisiva che ha lanciato ad esempio la carriera di Kelly Clarkson adora inoltre giocare sulla neve con altri ragazzini del vicinato che non la giudicano il padre di Nicole a questo punto è tornato nella sua vita lei lo vede un po' più spesso ma il legame più forte è quello che Nicole custodisce con la mamma la camera da letto di Nicole e quella di sua madre sono adiacenti a volte Tammy bussa contro la parete per cercare di attirare l'attenzione della figlia allora lei accorre nella stanza e si infila nel letto della mamma che le fa le coccole spesso dormono insieme e anche se Nicole ha 13 anni e sta diventando un adolescente dentro conserva la tenerezza di una bambina c'è però un'altra realtà che scombussola parecchio la vita di Nicole quella dei social media dopo essere stata vittima di bullismo a scuola per tanto tempo Nicole si è avventurata online per cercare nuovi amici con cui parlare desidera davvero tanto ricevere qualsiasi tipo di attenzione o approvazione da parte del prossimo visto che non succede mai a scuola del resto nonostante Nicole abbia ancora degli interessi un po' infantili sa che sta crescendo ed è curiosa di sperimentare questo mondo virtuale frequentato dai suoi coetanei e anche dagli adulti purtroppo la ragazzina entra in alcuni gruppi facebook molto pericolosi perché i loro membri organizzano incontri con gli adolescenti gli adolescenti stessi pubblicano post fin troppo personali e chiedono agli altri utenti del gruppo di valutarli la maggior parte dei commenti in risposta a questi selfie eccessivamente rivelatori sono negativi denigratori inoltre come accennato questi gruppi sono composti anche da predatori che scrutano tutti i post dei ragazzini e lasciano commenti addescatori del tipo aggiungimi tra gli amici o addirittura puoi inviarmi qualche foto ancora più piccante ed esplicita una notte intorno alle 3 Nicola sta navigando su uno di questi gruppi facebook e dopo tanto tentennare decide di postare un proprio selfie è una foto normalissima e non dal contenuto esplicito nella digascalia di questa immagine la piccola insicura Nicola scrive sono carina o no purtroppo il suo post non passa inosservato anzi riceve diverse interazioni Nicola legge 34 risposte la maggior parte delle quali sono offensive qualcuno le ha scritto no non sei carina oppure sei molto rotonda è ridicolo quanto le persone diventino sfacciate online nascoste dietro uno schermo comunque le reazioni a questo selfie non sono l'unico problema di Nicola che purtroppo entra in contatto con uomini decisamente più grandi e ben poco raccomandabili ma questi adescatori in realtà si camuffano utilizzano come foto del profilo delle immagini che raffigurano giovani adolescenti si tratta quindi di account falsi dietro i quali si celano adulti malintenzionati i quali inviano a Nicole dei messaggi delle immagini molto espliciti e le chiedono di scattarsi delle foto da mandare a sua volta fortunatamente Nicole non invia mai le sue foto e i suoi genitori si accorgono di tutti questi messaggi di facebook prima che accada qualcosa di grave Tammy e Dave sono inorriditi così impongono alla figlia di eliminare il suo account le confiscano il cellulare e le dicono che non può più iscriversi su nessun social media col tempo però Nicole chiede più volte indietro il suo telefono e alla lunga i genitori cedono accontentandola alla fine del 2015 la tredicenne Nicole scarica la già menzionata app di messaggistica istantanea Kik ed è proprio in questo periodo che inizia a chattare con un utente chiamato dottor Tomston lei non sa chi si nasconda dietro questo profilo ma noi si si tratta proprio di David Eisenhower come vi ho già detto in precedenza non sono noti i dettagli relativi alle loro conversazioni ma si sa che avevano aggiunto toni e contenuti intimi e David sapeva che stava parlando in un certo modo a una tricenne comunque dopo la loro prima interazione su Kik David e Nicole si scambiano messaggi più volte al giorno i due intrattengono lunghe conversazioni condividono aneddoti su loro stessi si raccontano dei propri interessi e Nicole in poco tempo si infatua di David ma non solo anche David si invaghisce di Nicole lui afferma che hanno un legame emotivo David ben presto scopre che Nicole vive a Blacksburg in Virginia la stessa città in cui si trova la Virginia Tech University David ha chiaramente adescato Nicole che abita proprio nei dintorni in poco tempo la giovane e ingenua Nicole si convince che lei e David abbiano una relazione anche perché lui le dice che un giorno scapperanno insieme si sposeranno e creeranno una bella famiglia per questo Nicole crede che siano in un certo senso già legati così quando va a scuola Nicole dice alle sue coetanee che ha un fidanzato di ciottenne con cui parla sempre online afferma che lui è davvero carino e divertente che lo ama Nicole cambia anche il suo stato sentimentale su Facebook dove ha avuto di nuovo accesso da single imposta l'opzione in una relazione David dal canto suo non fa nulla per disilludere Nicole tanto a lui fa comodo che lei si senta così legata a lui non so voi ma quando penso al classico predatore che si cela dietro un account online non mi immagino di certo una matricola del college mi dispiace immensamente che Nicole sia precipitata in questa situazione allarmante proprio lei che aveva dovuto affrontare già tantissime difficoltà nella sua vita aveva sofferto di gravi problemi di salute era costantemente vittima di bullismo a scuola e per questo non aveva molti amici ecco perché si è avventurata online voleva riuscire a socializzare senza essere giudicata ma è entrata in contatto con il lato più oscuro dei social media arrivando a frequentare posti virtuali pericolosi e ora si è imbattuta lei stessa in un predatore ma Nicole non lo riconosce è così vulnerabile perché ha un disperato bisogno di essere accettata di ricevere amore e affetto è questo che accentua la sua fragilità nei confronti di persone come David le conversazioni tra Nicole e David vanno avanti per mesi interi la ragazzina man mano viene sempre più risucchiata dalle parole adulatrici di David finché lui a un certo punto vuole interrompere il dialogo con lei ma quando Nicole scopre che si trovano nella stessa città chiede ripetutamente a David se possono incontrarsi di persona d'altronde Nicole crede che siano fidanzati quindi perché non dovrebbero vedersi David però è intimorito sa che uscire con una ragazzina di 13 anni non è un'ottima idea quindi decide di rompere con Nicole la ragazzina ora ha il cuore spezzato non capisce perché David all'improvviso abbia smesso di parlarle David ormai è tutto per lei dal suo punto di vista stavano vivendo un'intensa relazione online dato che Nicole non ha nessuno che le stia davvero vicino a parte la sua mamma David è diventato tutto il suo mondo Nicole è terribilmente triste arriviamo al 3 gennaio del 2016 quando Nicole riprova a contattare David gli invia un messaggio con scritto caro David tu sei la mia cotta ma so che non pensi a me in quel modo tuttavia non mi importa sarò sempre qui se vorrai divertirti sono qui quando è una brutta giornata sono qui e non voglio che le cose cambino voglio essere presente nella tua vita finché potrai sopportarmi so di essere fastidiosa e che chiedo troppo ma sono una ragazza ho un cuore e dei sentimenti i miei sentimenti sono stati feriti ma tu non sei mai stato ferito quindi sì sono troppo stupida per pensare che tu voglia davvero restare nella mia vita ma se non lo farai mi farò semplicemente una vita ciao David a questo messaggio risponde ecco cosa sto pensando ti darò alcune opzioni numero uno prendiamoci una pausa per un po' finché non torna alla normale routine allora ti manderò un messaggio tra qualche settimana al massimo numero due continuiamo a parlare proprio come amici e vediamo come va o ancora numero tre non ci parliamo più non ha riportato come Nicole abbia risposto a questo preciso messaggio ma non è difficile immaginarlo Nicole è ferita probabilmente spera di riprendere la relazione e di aspettare che David torni nella sua routine normale del resto lui le aveva detto che un giorno sarebbero scappati insieme che si sarebbero sposati e avrebbero creato una famiglia e ora all'improvviso vuole soltanto troncare tutto senza una ragione apparente trascorrono un paio di settimane e non si sa se i due nel frattempo abbiano continuato a comunicare ma a questo punto le cose prendono una svolta terribile dunque succede ciò una notte David va a una festa liceale a Blacksburg dove vive anche Nicole che è proprio presente a quello stesso party o almeno questo è ciò che dirà David perché non sussistono prove concrete della presenza di Nicole onestamente a me vengono dei forti fortissimi sospetti a riguardo innanzitutto Nicole ha pochi amici proprio perché è vittima di bullismo e preferisce stare a casa con la mamma dove si sente al sicuro inoltre perché una tredicenne che frequenta la scuola media dovrebbe essere invitata a una festa del liceo voi cosa ne pensate in ogni caso durante questa festa David beve tanto fino a ubriacarsi e si mette a flirtare con diverse ragazze più tardi durante la serata si risveglia addirittura in un fosso disorientato il giorno dopo David riceve un sacco di messaggi dalle persone presenti alla festa le quali gli parlano della ragazza che ha baciato appassionatamente per tutta la notte con la quale si è divertito molto ma David non ricorda nulla però sentite qua per qualche strana ragione David si preoccupa temendo che la ragazza in questione sia proprio Nicole questo pensiero lo tormenta sempre di più e se a un certo punto durante la notte fosse andato a letto con Nicole onestamente non so come David sia arrivato a fare un ragionamento simile e a trarre queste conclusioni divertirsi molto con una ragazza non significa necessariamente esserci andato a letto durante la stessa giornata David riceve anche numerosi messaggi da Nicole su Kik il contenuto di questi messaggi quantomeno non è affatto insolito infatti Nicole scrive come sempre che lui le manca che lo rivuole insomma non fa alcun riferimento alla festa né alcuna allusione al fatto che loro due siano andati a letto insieme secondo David però Nicole in un messaggio lo ha minacciato scrivendogli che se lui non fosse tornato ad essere il suo ragazzo lei avrebbe raccontato della loro relazione a tutti e infine si sarebbe tolta la vita ribadisco questo è David che lo afferma è la sua versione dei fatti David poi di punto in bianco sospetta che Nicole sia incinta una conclusione irragionevole a cui è giunto completamente da solo ricapitolando non ci sono prove che Nicole fosse davvero presente a quella festa divertirsi con una ragazza non vuol dire necessariamente che ci era andato a letto nulla suggerisce che Nicole che molto probabilmente David non ha neanche mai incontrato di persona aspetti un bambino da lui non ci sono prove neanche che David e Nicole abbiano mai avuto un contatto intimo eppure per qualche contorto motivo lui ne è assolutamente convinto per questo motivo David è disperato si sente catapultato nel suo peggiore incubo ma non perché si sente in colpa al pensiero di aver avuto un rapporto con una tredina e di averla messa incinta piuttosto perché teme le reazioni della gente una volta emersa la sua natura di adescatore di ragazzine questo avrebbe distrutto la sua immagine e nessuna buona azione o successo riscosso avrebbe potuto ricostruire la sua reputazione a cui ha sempre tenuto tantissimo e onestamente ve lo dico questa situazione mi fa ribollire il sangue nelle vene visto che per David è così importante l'immagine che dà di sé perché diavolo si è addentrato in una relazione virtuale con una tredina non poteva trovare una ragazza della sua età di sicuro una mente sana avrebbe optato per un rapporto normale con una coetanea e ora veniamo all'aspetto più terrificante delle tribolazioni mentali di David il quale conclude che c'è un'unica atroce soluzione per far sparire tutti i suoi problemi ovvero uccidere Nicole una scelta spietata e basata su delle supposizioni infondate David inizia a pianificare l'omicidio di Nicole ma non lo fa da solo contatta la sua amica Natalie Keepers per chiederle di dargli una mano vi ricordo che Natalie è davvero ossessionata da David ecco perché al posto di spiegargli che ha bisogno di un bravo psicologo accetta di prendere parte all'omicidio di Nicole stando a quanto affermerà Natalie questo piano la faceva sentire parte di qualcosa percepiva di avere uno scopo bello scopo direi uccidere una ragazzina di 30 anni che non ha mai fatto del male a nessuno Natalie descriverà se stessa e David con una parola sociopatici in ogni caso nei giorni successivi David e Natalie discutono su come commettere il delitto pensano di avvelenare Nicole sanno che deve sempre assumere dei farmaci antirigetto quindi ipotizzano di irrompere in casa sua e di scambiare le pillole che prende abitualmente con delle pasticchie al cianuro conducendola alla morte contemplano anche l'idea di provare a far sembrare all'omicidio di Nicole un suicidio ipotizzano pure di rapirla e di farle perdere i sensi per poi lasciarla fuori al freddo a morire mentre i due si scambiano queste macabre conversazioni David cerca su Google come distruggere completamente qualcuno e modi per distruggere qualcuno cerca di fare il furbo evitando di digitare frasi del tipo come distruggere un corpo o ancora come distruggere un'arma del delitto ma poi commette un errore perché cerca quanto impiega un corpo a bruciare o a che temperatura si sciolgono le ossa o ancora quali sono i farmaci tranquillanti migliori o infine come fa Dexter a sbarazzarsi dei corpi in caso se non lo sapete Dexter Morgan è un personaggio protagonista di una serie tv un uomo all'apparenza tranquillo un metodico esperto forense della polizia scientifica di Miami che però in realtà è un serial spietato ma Dexter pur nella propria ferocia agisce sempre seguendo un personale codice rigoroso che gli impone di uccidere soltanto i criminali che sono sfuggiti alla giustizia comunque dopo aver terminato le sue ricerche David invia un messaggio scherzoso a Natalie in cui scrive porto un po' di protezione una di queste volte usciamo insieme infatti tutto questo pasticcio è successo perché non riesco a tenermelo nei pantaloni avete intuito che David con Natalie sta alludendo all'eventualità di avere un rapporto intimo quanto al pasticcio invece si riferisce alla povera Nicole perché è ancora assurdamente convinto di averla messa incinta dopo aver vagliato diverse azioni cruente David e Natalie decidono di tendere un agguato a Nicole e di colpirla con un coltello il 26 gennaio del 2016 David quindi recupera un coltello dal suo dormitorio nel college incontra Natalie e insieme si dirigono all'ipermercato Walmart locale per comprare degli oggetti utili a portare a termine l'omicidio infatti vengono registrati dalle telecamere di sorveglianza di Walmart mentre acquistano una pala poi si riuniscono per finalizzare il piano ricapitolandone le varie fasi David deve riuscire a portare fuori Nicole illudendola con la proposta di un appuntamento romantico quindi le manda un messaggio scrivendole dovremmo uscire di nascosto per un appuntamento stasera non dire nulla a tua madre Nicole che è davvero infatuata di David quando legge questo messaggio probabilmente tocca il cielo con un dito spinta dalla felicità è chiaro che accetta di incontrare il suo ragazzo nel frattempo David e Natalie valutano di persona alcuni posti che reputano idonei per l'omicidio poi lui riaccompagna Natalie nella sua stanza nel dormitorio del college Natalie infatti non sarà presente nel momento dell'omicidio dopodiché David si dirige nei pressi dell'abitazione di Nicole verso mezzanotte quella sera come tutte le altre Nicole e sua madre Tammy sono a casa insieme come vi ho raccontato a volte Tammy bussa contro la parete della stanza di sua figlia che la raggiunge in camera per farsi coccolare un po' purtroppo la sera del 26 gennaio questo non accade e Nicole ne è ben contenta anzi sta aspettando che sua madre si addormenti per sgusciare fuori di casa e incontrare David quando Tammy ormai tra le braccia di Morfeo Nicole barrica la porta della propria camera da letto mettendoci davanti un comodino infine sgattaiola fuori di casa attraverso la finestra della sua stanza David è lì ad aspettarla Nicole si infila nella sua macchina convinta che gli attenda un'uscita felice ma i programmi di David sono ben diversi infatti porta Nicole nel luogo isolato che lui e Natalie hanno scelto poco prima David sta percorrendo una strada remota tra i boschi ovvero Craig Creek Road e Nicole è molto confusa perché non c'è nulla nei dintorni a un certo punto l'impietoso David ferma la macchina trascina la vittima del suo inganno all'esterno e la colpisce alla testa con un oggetto contundente che le rompe l'osso del collo dopodiché David estrae il coltello e pugnala Nicole per 14 volte ecco come Nicole Lovell perde la vita è così straziante pensare agli ultimi dolorosi momenti della sua esistenza come detto e come rivelerà l'autopsia eseguita sul corpo di Nicole lei era viva quando David le ha rotto l'osso del collo era viva anche quando lui ha iniziato a pugnalarla Nicole ha subito un attacco feroce e frenetico ed è sempre rimasta cosciente immagino quanto fosse terrorizzata avvilita e quanto abbia sofferto poi ve lo ripeto se penso a ciò che Nicole aveva già vissuto le malattie il bullismo questo feroce prematuro epilogo mi appare ancora più ingiusto l'assassino a seguito dell'omicidio abbandona il corpo di Nicole in questa remota area boschiva e torna al campus universitario nella sua stanza del dormitorio intorno alle 2 di notte a questo punto Natalie gli scrive per sapere come stanno andando le cose e David risponde ho fatto la mattina successiva la mamma di Nicole si sveglia e si aspetta di sentire sua figlia nella camera da letto mentre si prepara per andare a scuola come ogni mattina ma Tammy avverte in casa uno strano silenzio forse Nicole non sia ancora svegliata Tammy si precipita verso la camera di sua figlia ma non riesce a entrare perché la porta è bloccata dal comodino assalita dal panico più totale fa un grosso sforzo e riesce ad aprire leggermente la porta e a infilarsi nella stanza di Nicole Tammy si accorge che però sua figlia non c'è sembra scomparsa e la finestra della camera è spalancata Tammy a questo punto si guarda intorno e nota che le medicine per la terapia salvavita di Nicole sono rimaste lì questa situazione risuona come un angosciante campanello d'allarme Nicole non era mai uscita di casa di nascosto prima d'ora e non si era mai separata dalle sue pillole vitali che deve assumere ogni singolo giorno Tammy in preda alla preoccupazione chiama immediatamente la polizia e data la giovanissima età di Nicole e le sue critiche condizioni mediche al suo caso viene assegnata la priorità viene immediatamente coinvolta l'FBI e la vicenda viene descritta sui notiziari locali attirando notevoli attenzioni molteplici manifesti sulla scomparsa della ragazzina vengono distribuiti in zona intanto David è nella sua stanza del dormitorio e si accorge che la scomparsa di Nicole viene discussa sui notiziari cogliendola alla sprovvista David non se lo aspettava in base alle sue ultime ricerche effettuate su Google riguardo i ragazzini scomparsi aveva tentato di capire quanta attenzione mediatica ricevessero questi casi se le giovani vittime fossero state ritrovate e in tal caso dopo quanto tempo dalla sparizione David era giunto a credere che nessuno avrebbe prestato attenzione alla scomparsa di Nicole ma si sbagliava di grosso il suo caso riempie tutti i notiziari così David si fa prendere dal panico valuta di spostare il corpo di Nicole e chiama subito Natalie per chiederle aiuto Natalie accetta ancora una volta quindi insieme si dirigono a Craig Creek Road quando individuano il corpo esanime della ragazzina accostano l'auto recuperano il cadavere e lo sistemano nel bagagliaio per poi fare un'altra sosta da Walmart lì i due complici entrano tranquilli in un negozio e comprano dei prodotti per la pulizia come guanti di gomma e candeggina intanto hanno follemente lasciato la macchina parcheggiata con all'interno il corpo di Nicole al termine dei loro acquisti entrambi risalgono in macchina e ragionano su un posto adatto a seppellire i resti della ragazzina da prima propendono per un'alternativa assurda cioè il terreno dei nonni di David che si trova nella Carolina del Nord a circa tre ore abbondanti di macchina poi decidono di cambiare il piano la coppia attraversa comunque i confini di stato per entrare nella Carolina del Nord ma individua un'altra zona boschiva remota e seppellisce il corpo di Nicole appena fuori da un lato della strada le hanno prima tolto i vestiti e le hanno pulito il corpo con la candeggina per tentare di rimuovere ogni traccia di DNA che potrebbero averle lasciato addosso dopodiché si cimentano nella pulizia dell'auto di David cercando di rimuovere ogni traccia di sangue e in seguito si dirigono al McDonald's a mangiare quando arrivano al parcheggio del fast food gettono i vestiti di Nicole in un cassonetto poi entrano e si gustano il loro bel Big Mac infine risalgono in macchina e raggiungono un'altra zona boscosa per sbarazzarsi dell'arma del delitto tornano nel loro dormitorio e cercano di comportarsi come se nulla di terribile fosse successo arriva il giorno successivo e le autorità sono disperatamente impegnate nella ricerca di Nicole anche considerando che la ragazzina non ha con sé le sue medicine anti-rigetto una pista da seguire viene fortunatamente tracciata grazie a una delle compagne di scuola di Nicole che si fa avanti per dire alla polizia che Nicole ha un fidanzato 18 anni conosciuto online con il quale stava progettando di incontrarsi di persona i genitori di Nicole quando vengono a saperlo ci rimangono davvero male anzi sono letteralmente scioccati la polizia intanto servendosi di un post dove Nicole aveva annotato le password dei suoi social media riesce ad accedere ai suoi account ispeziona anche l'app di messaggistica di Kik e risale a una parte della cronologia della chat tra Nicole e un utente con il nome dottor Tomston le conversazioni tra i due sono preoccupanti perché alquanto esplicite gli inquirenti devono rintracciare subito questo utente quindi si mettono in contatto con la società che gestisce l'applicazione che fortunatamente in questo caso è d'aiuto gli sviluppatori gli sviluppatori di Kik forniscono l'indirizzo email collegato all'account di questo dottor Tomston che è quello reale di David il quale almeno non ne aveva usato uno fittizio appositamente per iscriversi all'app dopo questi sviluppi la polizia impiega poco per scoprire che il dottor Tomston è un diciottenne di nome David Eisenhower che studia alla Virginia Tech University David viene rintracciato e portato alla stazione di polizia per l'interrogatorio i detective gli mostrano i messaggi scambiati con Nicole e lui fa del suo meglio per cercare di divincolarsi da questa situazione David afferma di aver avuto l'impressione che Nicole avesse 16 o 17 anni e sostiene che avevano deciso di uscire insieme tuttavia appena lui l'aveva vista si era reso conto di quanto lei fosse giovane sembrava una bambina di 11 anni a suo dire dunque era risalito in macchina e se ne era andato lasciando Nicole a casa sua al sicuro David ribadisce di essere innocente e che ha un alibi per l'omicidio dato che era stato tutta la notte in compagnia di una ragazza Natalie Keepers lo quale avrebbe indubbiamente confermato la sua versione dei fatti David è assolutamente convinto che Natalie sia disposta a mentire per lui intanto la polizia la rintraccia e la porta alla stazione di polizia tuttavia durante il suo interrogatorio Natalie cede sopraffatta dalla pressione quindi fornisce alla polizia una confessione completa e sincera racconta ai detective ogni dettaglio della relazione tra David e Nicole spiega che David era convinto di aver messo incinta la ragazzina e che non poteva sopportare che il suo comportamento sconsiderato venisse a galla per cui aveva deciso di ucciderla Natalie confessa anche il suo ruolo nella pianificazione dell'omicidio racconta che David aveva pugnalato Nicole e che il giorno dopo l'aveva convinta ad aiutarlo a spostare il suo corpo i detective chiedono a Natalie di condurli nel luogo della sepoltura e lei accetta di collaborare questa purtroppo ora non è più un'indagine su una persona scomparsa ma per omicidio la polizia deve comunicare la terribile scoperta ai genitori di Nicole che devastati decidono di rilasciare una struggente dichiarazione ai media David viene arrestato e accusato di omicidio di primo grado mentre Natalie viene accusata di complicità nell'omicidio nel 2018 due anni dopo David affronta il processo a suo carico l'accusa è in possesso di una quantità enorme di prove ha il reso conto di tutte le sue attività online e il suo cellulare captato da più ripetitori si collocava a casa di Nicole poi nell'area dell'omicidio poi ancora nel luogo dove è stato ritrovato il suo corpo emerge anche che i due complici non erano riusciti a pulire l'auto così bene infatti la polizia aveva rilevato delle tracce del DNA di Nicole che prova la sua presenza nella macchina di David insomma per il giovane assassino non si prospetta alcuna via d'uscita durante il processo vengono discussi i motivi dell'omicidio e l'unico movente che si individua è che David era inspiegabilmente convinto che Nicole fosse incinta e aveva scelto di farla sparire per sempre vi sottolineo comunque che l'autopsia ha evidenziato che Nicole non era in dolce attesa pochi giorni dopo l'inizio del processo David viene informato che tutti i messaggi scambiati con Nicole su Kik verranno letti in tribunale compresi quelli che risalgono all'inizio della loro relazione virtuale a questa notizia David è in preda al panico e cambia la sua dichiarazione da innocente a non contesto questo vuol dire che implicitamente si dichiara colpevole che non discute nessuna delle prove perché ovviamente sa che sono sufficienti per condannarlo spero almeno di evitare la pubblica rivelazione di ulteriori dettagli vergognosi dunque il processo termina qui ecco perché durante la narrazione dei fatti vi ho ripetuto più volte che non possiamo sapere esattamente cosa si fossero detti Nicole e David nelle chat le conversazioni non sono mai state rese pubbliche vi espongo ora la mia teoria fatemi sapere che cosa ne pensate voi nei commenti credo che questi messaggi avrebbero rivelato un lato decisamente oscuro di David palesando la sua vera natura quella del predatore di ragazzine e voi sapete come vengono trattati i p***o in prigione no? non se la passano affatto bene per niente con la sua ultima decisione David quantomeno si è assicurato di poter negare questa accusa dietro le sbarre non tanto per puntare a una riduzione della pena in un eventuale appello successivo ma per poter rispondere ai detenuti che gli avrebbero dato fastidio con io pensavo che lei avesse 16 17 anni fortunatamente David viene condannato a 60 anni di prigione per l'omicidio di Nicole a ulteriori 10 anni per il suo rapimento e ad altri 5 per occultamento di cadavere quindi complessivamente David Eisenhower dovrà passare 75 anni in carcere probabilmente non vedrà mai più la luce del sole se non dall'interno della sua cella fortunatamente poi più tardi nell'agosto del 2018 inizia il processo contro Natalie che viene dichiarata colpevole di complicità nell'omicidio e condannata a 40 anni di carcere venendo alle nostre considerazioni finali questo è uno di quei casi che ve lo giuro non comprendo cioè non riesco a capire perché sia successo non mi spiego come David possa essere arrivato alla conclusione di aver incontrato Natalie a una festa di liceali visto che non ci sono prove che loro due si fossero visti di persona prima della notte dell'omicidio non capisco neanche come abbia dedotto di esserci andato a letto e di averla addirittura messa incinta mi chiedo come ragioni la mente di David sempre che questa sia la verità ma sapete che vi dico secondo me la versione raccontata da David non rispecchia la realtà e lui lo sa bene credo che avesse commesso il delitto per la sola paura che Nicole raccontasse della loro relazione ad altre persone mostrando i messaggi che lui le scriveva ho la sensazione che se avessimo avuto l'opportunità di leggere questi messaggi ci saremmo disgustati enormemente ma vi ripeto questa è la mia opinione e sono curiosa di conoscere le vostre parlando di Natalie invece sappiamo che lei aveva vissuto una relazione abbandonata e violenta per anni trovando la forza di troncarla definitivamente soltanto ai tempi dell'università sono consapevole che anche lei era vulnerabile di fronte alla manipolazione di David ma non mi capacito di come sia arrivata a essere la sua complice in un omicidio così raccapricciante d'altronde diciamocelo chiaramente lo conosceva a malapena è vero Natalie non ha materialmente ucciso Nicole ma non si è mai tirata indietro ha orchestrato il piano omicida insieme a David e poi lo ha aiutato a spostare il cadavere sarebbe potuta andare dalla polizia non appena David aveva iniziato a prospettarle di voler ammazzare qualcuno ma non lo ha fatto in conclusione ribadisco di nuovo che mi dispiace tantissimo per Nicole e per la sua famiglia lei nella sua breve vita aveva già dovuto affrontare tante avversità ed era riuscita a superare un mare di ostacoli ma poi è stata assassinata in un modo brutale e insensato un epilogo di vita precoce e straziante e questo ci porta alla fine di questo video e quindi anche alla fine del caso di oggi sono molto curiosa di sapere le vostre opinioni fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se lo conoscevate già e sono davvero molto curiosa di capire quali siano le vostre idee io ve le ho già espresse in precedenza poco fa durante la conclusione del video quindi non posso far altro che dirvi di commentare e di scrivere le vostre opinioni qui sotto nella sezione commenti io sono molto curiosa di leggervi tutti nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale vi ricordo che se volete aprire o gestire la partita IVA potete richiedere una consulenza fiscale completamente gratuita e senza impegno con Fiscozen dal link in descrizione un consulente vi chiamerà e risponderà a tutte le vostre domande vi ricordo che se deciderete di proseguire avrete anche 50 euro di sconto sul primo anno di abbonamento grazie a tutti